Musica Ragazzi andate in questo nuovo video di Fall Guys Questo è il mio secondo video di Fall Guys Siamo davvero in tantissimi Io questo gioco non ci ho mai giocato Per davvero tra gli harder Non ci ho mai giocato così tanto competitivo E vi dico iscrivetevi tutto il canale Attivate la campanina Cliccate sul tasto di iscriviti E noi ci vediamo No se ci vediamo E buona continuazione del video Allora questa mappa È abbastanza easy Se tu mi dici Giochiamo a Fall Guys Con le mappe vecchie del vecchio Fall Guys Ti dico sì Anche sempre ci giocherei Ma se è così Io non Ok andiamo qua Non ce credo Vai a quel paese Gioco No è il gioco proprio che mi fa impazzire Tu devi tryhardare Cioè in ogni gioco Qualificazione raggiunta raga No è il gioco che mi fa impazzire 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 sta mappa la vedo molto grigia non ha niente di che sto un attimo tryhardando più che posso perché non è possibile non ci posso credere oh raga forse mi qualifico forse mi qualifico non ci credo non ci credo secondo sì sì e dai per secondo mi sono qualificato e dai per secondo per secondo e dai sono il più forte su fall guys dai dai sono troppo forte ora 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 stacco un attimo e ci rivediamo tra pochissimo ma removed la nuova è l'a Ok raga Solite rotture di scatole Niente di che Che devo fare io Le certe rotture di scatole Che devo fare E nulla di che Allora Solite rotture di scatole Che ho da fare io Dei giochi che Che devo giocare io Magari ai dei Che magari Mi devo muta un attimo Perché magari dopo Mi si sente l'audio del gioco Magari Ecco perché la rottura di scatole Nulla di che Nulla di che Nulla di che ragazzi Non mi preoccupate se questo video Sta durando un botto ma Oddio Ultima Oh 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 La sfida finale la voglio fare io per bene Oddio Mai fatto un gioco finale Su Fall Guys A dirvi la verità E' la prima volta Sono troppo troppo contento Mamma mia Sono contentissimo E' la prima volta E' la prima volta Ecco E' la prima volta Non è il gioco finale in realtà, eh. No! Godo come un riccio, come un riccio. Cinque, tre persone cacciate. Sì! Gioco finale sul serio. Gioco finale sul serio, raga. Oh. Oh! Se la vinco, mega partitona, eh. La porto anche su Insta, eh. Oh! Grazie a tutti No Non ci credo Non è il gioco finale Allora il prossimo è il gioco finale Cioè con quante partite so Dica Cioè un attimo da chiarina cosa Sono un po' troppe partite Sto scherzando eh Non so troppe partite Non so troppe partite però Sono belle 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 partite GG per noi Ora uno si può qualificare Oh Devo traiardare Non c'è niente da fare Ora giocheremo più serio possibili Sì Dai No Che pepossino Lo sapevo io I filistei mannaggia Uh grazie L'affan... Oh grazie Mannaggia a te Mannaggia Però Siamo in una buona posizione Segnala troppo Quanto ti vorrei segnalare Porco Due Porca miseria Quanto ti vorrei segnalare E... Perfetto Allora Spero che il video vi sia piaciuto E vi piace Nel prossimo video Ciao a tutti ragazzi